Sono giorni caldi, nonostante la temperatura sia gelida, ben ritrovati, commentate numerosi, iscrivetevi, lasciate un like. Giorni caldi sul fronte futuro Milan, abbiamo raccontato di incontri in Bahrain tra Cardinale Furlani e gruppi di possibili investitori appunto dal mondo dell'Emirati Arabi, del Bahrain, insomma. E non solo, perché ci sono anche possibili investitori americani, se ne sta occupando Goldman Sachs, abbiamo detto di Invescorp e attenzione, notizia che trova conferme all'interno del fondo di investimento e anche zona club Milan. Non solo, però rispetto al video precedente vorrei andare oltre, perché risulta un ruolo importante di Paolo Maldini, che potrebbe con l'arrivo di Invescorp clamorosamente rientrare nel mondo Milan. Ora, sicuramente lui ha avuto contatti con un gruppo di investitori, la sensazione è che possa essere Invescorp, che già aveva contattato l'ex dirigente del Milan prima, che poi però la società passasse nelle mani di Redbird. In ogni caso, quello che risulta è che Maldini abbia avuto dei contatti e che in qualche modo, mentre questa che sentite in sottofondo è mia figlia che gioca, in qualche modo potrebbe rientrare nel Milan quando e se ci sarà questo passaggio di proprietà. Tanto è che lui ha rifiutato una proposta dagli Emirati Arabi, al momento ha un po' frenato l'ipotesi Manchester United e confida a chi gli sta attorno che un ritorno al Milan, così come di fatto detto nell'intervista a Repubblica la scorsa settimana, chissà, non si sa mai, lui è ancora sempre troppo legato al Milan. Vedremo che cosa succede, capite che però sarebbe clamoroso rivedere Maldini al Milan con un portafoglio, non dico illimitato, però ecco sicuramente con meno vincoli rispetto a quelli che c'erano prima e che ci sono attualmente anche senza Paolo Maldini. Quindi Maldini legato a una, diciamo così, a una corrente araba, chiamiamola in questo modo, a un gruppo di investitori che vedrebbero in lui l'uomo da cui ripartire. Ovviamente piedi per terra, però qualcosa sta accadendo. Un saluto anche da Beatrice.